S'intitola un mare di solidarietà, un'iniziativa voluta per regalare qualche giorno di vacanza anche ai piccoli più disagiati. Dopo il grande successo di pubblico che ha fatto registrare circa 40.000 visitatori in pochi mesi, gli organizzatori della mostra Body Wars, esposta a Napoli presso il Real Albergo dei Poveri, hanno voluto ricambiare l'ospitalità fornita dall'amministrazione comunale ed ha offerto in collaborazione con l'esercito italiano un periodo di balneazione presso i ledi di Miseno a circa 250 bambini. A cominciare sicuramente dai bambini della sanità e poi abbiamo in questo progetto coinvolto anche i bambini rom. C'è stata veramente una bella gara di solidarietà tra l'ende e le associazioni. È stato un piacere metterli tutti intorno a un tavolo e ho visto come messi insieme tutti possiamo collaborare per dare anche un attimo di felicità o una piccola vacanza a chi non se la può permettere. Si inserisce su un filone già in essere perché noi sono anni che diamo un'assistenza analoga ai bambini dell'Istituto Don Bosco e da quest'anno anche ai bambini dell'Istituto Monte Calvario. Analoga iniziativa è stata realizzata dalla società Napoli Sociale con l'Aureonautica Militare che ha dato la possibilità a 21 bambini residenti nei campi Rom di fruire di 10 giorni di vacanza. Sicuramente hanno arricchito il Lido perché vedere tanti bambini fa sempre motivo di gioia. Comunque credo che si siano divertiti, noi gli abbiamo messo tutte le strutture possibili a disposizione. Sono state anche le accompagnatrici, ovviamente hanno fatto il loro lavoro bene, anzi. Per noi è stato solamente un arricchimento.